Lo strappo, un atto spregiudicato, ha penalizzato un percorso di cambiamento per la città oggi violentata dai poteri forti. È la scritta che campeggia sui manifesti 6x3, a firma dell'ex sindaco di Montesilvano, Attilio Di Mattia, apparsi per le strade della città. Il riferimento è al gesto dei 13 consiglieri comunali che domenica 16 febbraio, in uno studio notarile di Pescara, hanno firmato le dimissioni facendo cadere l'amministrazione comunale, ora gestita dal commissario prefettizio, che dovrà traghettarla fino alle elezioni del 25 maggio. Contro le dimissioni, l'ex sindaco ha presentato ricorso al TAR. Ad oggi, ha dichiarato Francesca Ciafardini, segretario provinciale PD, dopo la riunione della direzione del partito, il candidato sindaco per Montesilvano è Attilio Di Mattia. È iniziata l'operazione Verità, ha dichiarato Di Mattia. Andremo in giro per contrade nelle diverse zone della città per mostrare ai cittadini, carte alla mano, le iniziative che abbiamo attuato in 20 mesi di lavoro e che hanno generato la stretta dei poteri particolari sulla nostra amministrazione comunale. Hanno provato a rimandarci indietro di due anni ma avranno l'effetto contrario, ci manderanno avanti di sette anni. È stato veramente uno strappo, è stato un atto spregiudicato che io definirei anche anti-istituzionale, soprattutto nei rispetti dei cittadini di Montesilvano, che per questo motivo dovranno avere un'amministrazione ordinaria e rallentare tutti i progetti che la mia amministrazione stava portando avanti. Il PD mi ha chiesto di ricandidarmi, la coalizione sta discutendo, alcuni risponsi positivi stanno già arrivando. Noi vogliamo veramente continuare ciò che abbiamo iniziato perché noi abbiamo veramente tentato di cambiare un sistema, un sistema di interessi particolari, spazzatura, rifiuti, smaltimento, urbanistica. Ecco, abbiamo disturbato forse il grande manovratore che con inciuci di palazzo ha provato a punirci, ma non l'avrà.